Io sono Pinuccia e faccio questo corso di Puoi guarire la tua vita che mi è capitato per caso di fare frequentando lo studio della dottoressa Leslie Pario e sono molto felice, siamo quasi al termine di questo weekend e devo dire che è stata un'esperienza veramente positiva, mi ha tirato fuori cose che avevo diciamo nello stomaco e non sarei, non avrei potuto dire e quindi direi che è stata un'esperienza veramente veramente fuori dalle mie aspettative e ringrazio quindi la dottoressa e anche tutte le persone che ho conosciuto nel gruppo.